Buongiorno a tutti, mi chiamo Giannino Salvatore, sono siciliano e vengo dalla provincia di Catania. Ho frequentato Italia Chef Academy perché mi sono reso conto a un certo punto della mia esperienza che avevo bisogno di un qualcosa in più per eccellere. Qui in Italia Chef Academy ho conosciuto tante persone, tra cui un team preparato ed esperto, da cui ho appreso tantissime cose. Ho appena concluso il mio percorso presso l'Osteria Francescana di Massimo Bottura, 3 Stelle Michelin, il miglior ristorante al mondo e d'Italia. Ho da poco saputo che verrò assunto e questo è tutto. Vi consiglio vivamente Italia Chef Academy, una buona giornata a tutti.